Buenos dias a todos mis amigos e bienvenidos in questo nuovo video E' un video strano ragazzi, questo è un video strano Perché io in realtà secoli... nel 1800 io e... 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 Ai Puffo Chi? 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 Ai Puffo Chi è? Non lo so Io e l'ho che sarebbe... che sarebbe Ai Puffo Non è vero Luca fa schifo essere chiamato Ai Puffo perché si vergogna di aver scelto quel nickname tempo fa Ai Puffo Ti sei veramente convinto a chiamarti Ai Puffo? Eh, micia, rompi il cazzo L'hai messo davvero A distanza tipo di... 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 due secoli Abbiamo deciso di rifare una partita uno versus uno Seria Noi ragazzi eravamo veramente bravi Mv2 Giocavamo delle partite epiche Andiamo a disinescare Eh beh vengo Andiamo Tu sei qua Dai andiamo Davanti Ah Dai fai tu vinci Tu sei Ah bravo La bomba devi disinescarla La disinesco io Faccio io Faccio io Faccio Nooo Facevo io DJ ha preso la bomba Ho anche questo coso grosso per sparare alle persone grosse Boom Eeeh Ho ucciso uno con un aia mi sono ucciso ma hanno ucciso Dai Luca è tutto bravo Beh c'è scritto che abbiamo vinto Pro gaming E niente quindi faremo sta partita qui per vedere chi vince Alla meglio di tre quindi faremo tre mappe di Call of Duty La prima è Rust Poi faremo High Rise E la terza vabbè la decidiamo lì E sono l'arbitro E tu sei l'arbitro Perché sono bello E' vero non avevo introdotto Warty Era lì a caso Sono professione Mi chiamo nelle partite private di Mv2 E mi fanno fare l'arbitro Cosa fai l'arbitro di Mv2 Allora si gioca 20 uccisioni Chi vince chi ne fa 20 per primo E si fanno tre mappe Adesso questa è la prima Dai avviamo Vai vai Sei pronto? No Cecchino però Solo cecchino E beh sì Only Sniper versus Ipuff Ipuff Eh non mi calcola la O Questo fa figo ed è merda Senza riscaldamento Senza riscaldamento Ah vuoi fare riscaldamento No dai Senza No noi siamo pro players Prima Bravo bravo Eh sì No no Madonna Bastardo No è troppi mesi anni che non ci gioca Eh è vero Sono passati solo due giorni No Allora Bastardo Aia Stai triste No Non è vero Come qua non so come ti ho preso Ti giuro È attraverso tutto Vaffanculo No Madonna Non scopo Non scopo a casissimo Non ci credo Non scopo di fila È un po' scarso qua Il caro Luca Ma cosa ho fatto? Io non sto facendo un culo Porca Eva Da dove sei uscito? Da No Bastardo No Che fai? È lo schivatore di coltelli No Ma porca vacca Vai da Eh vabbè Guarda tra l'altro Come cazzo sono i corpi su MW2 È bellissimo Non sto capendo però Però vedrai È bellissimo No ti sei spostatissimo Ma come cazzo ho fatto a non prenderti che ero dietro di te? Niente Niente Sì No Ma porca vacca Vai da Niente Mi è il predator Micchia bellissimo No Ma qua si è impiantato il coltello Cioè ma si può? Madonna in faccia Quanti tu sei premuto insieme? Che cazzo No Bastardo Che culissimo Uuuu Bella lì La partita è passata a coltelli in faccia Poghe parla Porca Borgadroia Borgadroia Morite Borgadroia Dove sei? Io non so Ma la fa culo Ho fatto un giro improponibile Dai Sempre lì Niente Ah Era l'ultima? Eh sì Ah già mica l'avevo visto La prima dai È andata bene È andata molto bene La prima è andata bene dai 20 e 15 Ormai che ne facciamo 3 puoi ripigliarti Ma se perdo tutte e due di fila O ce l'ho nel culo Hai guys Tutti contro tutti Facciamo Vabbè per la prossima vedremo Dai Vai Ma d'altro anche tu hai la sensazione Come se non sapessi giocare Perché hai appena iniziato Eh sì Cioè tipo metà partita mi sono ripreso Perché Sì anche io perché ti hai ripreso la mano Sì anche io non ho fatto Beh mica Niente mi ha dato merda Alla fine solo di 5 Questa qua è una sfida epocale Cioè mai successo nella storia Oddio Hai deciso Hai deciso di partire così Ho deciso che la morte era un'unica soluzione Dov'eri? Ho visto partire un coltello Ma cosa? Ha preso Vabbè ma per favore Lo sapevo Eh Lo sapevo Bastardo Oddio No vabbè dai Bastardo L'ho visto Hai visto il coltello Non riusciamo a beccarci Au Au No Bastardo Che culo di 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 Bastardo Questa è equilibrata 5 Questa è di più No 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 dai Come ho fatto a mancarti Come Mad Sono rimasto fermo Sono stato scemo io Bellissimo Bellissimo 3 di fila Sei fantastico Così Bastardo Ma dalle senate mi riprendo Non è vero Hai gravi Oh dai rimontone Rimontone 15-8 Rimontone Deciso Ma dove cazzo eri Ma dai No 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 Che cazzo Dai Vaffanculo Eh no Dove Non ti cazzo Non è vero Se Ma che cazzo Posso Posso Poi Ma dove sei Ma dove cazzo sei Ma eri lì Ma non è vero Non è No Minchia io questa partita ho fatto veramente schifo Non sono riuscito a prenderti neanche mentre non guardavi Oh Non ce la rischiamo Uh Non ce la rischiamo Attenzione Attenzione No No Eri lì puttana troia Pensavo fossi rinato dall'altra parte Vabbè dai Non volevo rischiare 26 Dai 1-1 Non è male O favela o termine Favela 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 Però è un po' un bordello Ok questa è la partita del secolo Vai Arbitro lei c'è? C'è ancora? Arbitro è morto Ah ciao Ah ciao Arbitro è vivo Può partire prego Scambiatevi gli scudetti Fai anche il fischio d'inizio Non lo so Eh se vuoi che svegli i miei va bene No no va bene così Non me la ricordo neanche più favela L'ho fatta l'ultima volta sei anni fa Ma smettila Non c'è troppa concentrazione Eh si Ok no addio Mi è arrivato un coltello No Eh beh beh Che culo Che culo Ma cosa? Ma che cazzo? Ma che cazzo Ma dai Ti ho visto volare Sono cascato dal tetto Vaffanculo Ma come cazzo ho fatto? Come? Come cazzo mi uccidi? Dai ho 3-0 Dopo questo non deve più vincere probabilmente No minchia Dopo aver sbagliato quello Ecco Mi è fatto bene uccidere Ma porca puttana Ma sempre lì sei Allora miro sempre lì No Bastardo Ho detto che lo facevo Grande Ho visto spuntare solo una testa per un nanosecondo Io mi cago Madonna Come cazzo hai fatto a vedermi? Non è possibile Eh lo senti Ma cazzo si è andato Pensavi facessi lo zanza Invece no Lo zanzi Non è vero Ma se non riuscivo a morire così Guarda mi davo all'ipica C'è un gioco tipo cavalli simulator Ma do Ma come cazzo ho fatto? Pro gaming Pro gaming Pro gaming Ma che cazzo ci fai lì? Ma perché sei lì? Ma cosa cazzo? Vabbè dai Ma come Ma che Ma come fai ad essere lì? Un secondo prima Stai nel coso Come fai ad essere lì? Hai rimontato tutto Sei a se Basta Basta E tra un po' mandi al nucleare Ti faccio quittare Ma vaffanculo lui Stavo in vantaggissimo Ma hai fatto 16 di fila Non è possibile Ma puttana troia Ma perché? Ma cosa cazzo? Te ne rimane uno Ma vaffanculo Ma vaffanculo Dai Ma che cazzo ridi? Ma cos'è? Ma cos'è? No è stato bello Ho fatto 10 uccisione di fila Comunque sia Morty ha già decretato il vincitore Che vince perché l'altro gioca con lo sporco Ha vinto lo sporco Ha vinto lo sporco Ha vinto lo sporco Lo sporco ha vinto E' stato bello comunque Dai Molto molto Niente ragazzuoli Io concludiere Concludiere le video In una maniera Che è proprio Di disgusto interno E ognuno C'ha le sue Io sono fortunato In altre cose Tipo nell'acquistare Banane a un prezzo Più favorevole E suca Per il resto Boh direi che possiamo concludere qui Concludo qui il video ragazzi Spero il video vi sia piaciuto Anche se era un po' diverso Ma andava fatto Perché Era doppico Era doppico E niente Noi ci vediamo in un prossimo video Lasciate come al solito Un commento mi piace Anche la pagina di facebook E noi ci vediamo in un prossimo video Bene ragazzi Anzi Cosa sta succedendo Ho solo preso la macchina Ma mi sfiga E vabbè Non è fisica questa Qualcuno mi spieghi Cos'è No aiuto E non posso neanche guidarla